Ultima top 11 della regular season, vi abbiamo intrattenuto per tutto l'arco della stagione con le nostre speciali formazioni, con la speranza vi siano piaciute. Ad allenare il Dream Team è Zenec Zeman del Pescara, terza piazza blindata di forza dopo il blitz in casa del Picerno. Il tecnico Boemo ritrova l'Escano e adesso si prepara ad affrontare la seconda turnata di spareggi promozione. In porta Francesco Forte, due interventi prodigiosi che consentono al Monterosi di espugnare Avellino e strappare la salvezza. In difesa Sbraga del Potenza, altra vecchia conoscenza dei lupi, ma gli ex non sono finiti qui. Sbraga andrà ai playoff con il Potenza, poi Caldore in gol contro il Cirignola. Il difensore degli Stabiesi accede alla post-season, poi completano il pacchetto Tartaglia del Monterosi e il giovane Mesic del Pescara. A noi il centrocampo e l'attacco ci piacciono quando vanno in gol. Iniziamo da Bialcason del Foggia, dai là la vittoria contro la Turris, poi Capomaggio che riapre al menti la contesa con un aerogol con il suo Cirignola dai 30 metri. E chiudiamo con Cari Suni della Latina che segna la rete playoff nella vittoria di rimonta del Francioni contro la Fidelis Sandria. Ed ora veniamo all'attacco, la notizia è che non c'è Pietro Iemmello, ma sei gol in tre. Rocco Costantino del Monterosi, l'attaccante originario di San Sosio Balonia, regala ai laziali una nuova salvezza e si regala ancora una doppia cifra. Poi l'escano del Pescara, per lui tante reti, dieci solo da quando c'è Zeman in due mesi. E poi Jacopo Murano, attaccante che nel Pimia non aveva reso e che invece a potenza segna sì poco, ma quando lo fa è decisivo.